Allora, consigliamo a Guido Bertolaso per aver costruito il sistema Abruzzo, gli operatori turistici di Abruzzo. Ma il signor Lorenzo Alessandrini, gentilmente, deve venire qui. Adesso il signor Bertolaso invece consegna una targa a Lorenzo. A Lorenzo Alessandrini non perdiamoci di vista. Grazie, grazie Lorenzo! Per favore, una cosa. Noi siamo tutti così, non ci sono solo io. Tutti i figli oggi di Guido Bertolaso facendo così. E se siamo raggiunti è venuta ad esempio. Ma naturalmente questo premio è a Lorenzo e a tutto lo staff del Corio e a tutti i volontari. Grazie.